ben trovati a tutti voi amici di le fonti tv un appuntamento speciale quest'oggi attraverso il nostro canale perché ci troviamo qui insieme per l'ottava edizione del convegno di afiesca informazione e mi trovo lo vado a presentare immediatamente il mio ospite in compagnia del direttore generale afiesca italia pierfrancesco basilico ben trovato buongiorno noi durante questo spazio dobbiamo dire tante cose quindi un spazio molto interessante davvero da seguire ma dobbiamo partire come sempre si fa in questo periodo in questo contesto storico dalla situazione attuale che ci ha portato a modificare alcune alcune situazioni una è proprio quella che vede protagonista il convegno afiesca informazione perché per la prima volta è interamente in full digital quindi in versione digitale naturalmente insomma direttore per rispondere all'emergenza da coronavirus però mi permetta di dopo le do subito la parola di fare quest'ulteriore precisazione a volte ci sono anche delle situazioni emergenziali che però danno ulteriori spunti operativi e credo che sia questa la situazione partiamo però col dire come avete affrontato questa emergenza insomma come a fiesca certamente sì l'emergenza è un'emergenza che è stata a livello globale infatti si parla di pandemia e l'impatto sul mondo lavorativo è stato assolutamente notevole devo dire che questo però ha immediatamente ne è stato tutta una serie di reazioni per cercare di mantenere sempre altissimo livello di risposta che si poteva dare al mercato e ai nostri clienti quindi essenzialmente due cose abbiamo organizzato la nostra struttura operativa in modo tale da poter garantire che il 100% del personale potesse lavorare da remoto e quindi mantenere un'operatività al 100% nei confronti sia dei nostri partner intermediari sia in confronti dei clienti e poi è finalmente la decisione di ristrutturare reinventare il nostro convegno annuale in maniera totalmente digitale ed è il motivo per cui siamo qui con voi che è l'evento più atteso dell'anno possiamo dirlo giusto direttore è l'evento più atteso dell'anno da parte dei nostri intermediari dei nostri partner perché coniuga al suo interno degli aspetti dei momenti di formazione e dei momenti di informazione e aggiornamento quindi il momento annuale in cui con tutti i nostri intermediari facciamo il punto della situazione e lanciamo i programmi per l'anno successivo parlando di numeri visto che piacciono agli amici delle fonti tv sicuramente anche ai vostri partner che lei giustamente ha ricordato avete subito l'effetto della situazione e lo so bella domanda allora l'effetto di questa situazione sicuramente l'abbiamo subito quest'anno lo sarà marcato in maniera diciamo importante da questo punto di vista credo come moltissimi operatori del mercato in modo particolare la nostra la nostra attività si svolge prevalentemente per la tipologia di prodotti che noi distribuiamo a diretto contatto col cliente finale e nel periodo iniziale di questa emergenza covid c'è stata un'interruzione pressoché totale durata qualche mese di tutti gli incontri con i clienti quindi questo sicuramente ha influenzato la nostra la nostra performance di quest'anno insomma l'impatto c'è stato ma credo che fosse inevitabile insomma inevitabile ma comunque anche lì questo impatto ha fatto da agito da stimolo nel cercare di trovare delle soluzioni alternative per poter poi recuperare ecco molto importante quando ci sono delle situazioni emergenziali anche la percezione di quello che ci sta accanto oltre naturalmente le soluzioni che poi i professionisti devono saper dare alle alle varie situazioni appunto voi avete notato dei cambiamenti nella percezione del rischio assicurativo durante questi mesi allora sicuramente sì e cambiamenti anche molto importanti sull'approccio nei confronti delle assicurazioni da sempre noi consideriamo l'assicurazione la prima cosa che ci viene in mente è l'rc auto c'è poco da fare primo perché obbligatorio a seconda perché tutti hanno un'automobile quindi di conseguenza difficilmente invece lavorando nel mercato delle polizze vita troviamo dei riscontri su questa tipologia a livello di interesse ma in maniera autonoma chiaro che sollecitiamo l'interesse l'interesse c'è però diciamo che spontaneamente il cliente difficilmente arriva ecco che invece questa emergenza covid ha diciamo accelerato un approccio di tipo autonomo verso queste di questa tipologia di polizze è interessante notare come una indagine condotta dalla italian insurtech association abbia messo in evidenza quali sono i parametri i numeri di questo cambiamento di mentalità e cambiamento di approccio io prenderei un attimino riferimento a un fogliettino perché me li sono scritti perché sono veramente veramente eccezionali abbiamo delle percentuali tra l'altro riferita a dei millennial per cui gente molto giovane che quindi ha già una percezione dell'approccio all'informazione basata sui social sui canali internet eccetera e noi abbiamo visto che prima della pandemia solo il 22 per cento degli intervistati avrebbe acquistato una copertura diversa da quella dell'auto oggi questa percentuale il 53 per cento quindi un significativo contrasto il 54 afferma che la percezione del settore assicurativo è cambiata quindi percepisce il settore assicurativo come un qualche cosa che può aiutarlo al di là delle cose standard diventa una protezione insomma diventa una protezione e quindi direi che in qualche modo gli aspetti anche legati questo possiamo mettere via anche legati alla salute e quindi non soltanto al consumo della delle 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 pollizze più di routine più di obbligatorie è entrato stabilmente nella nello scambio e nella ricerca ecco questo no no questo interessante soprattutto perché lei giustamente ha specificato che diciamo un'analisi fatta su giovanissimi sì che tendenzialmente poi mi corregga se sto dicendo qualcosa di inesatto pensano meno ovviamente a coprirsi in modo assicurativo perché non si pensa troppo ai rischi che il futuro può metterci di fronte no? certo certo comunque bisogna considerare che oggi anche i giovani grazie è un brutto termine ma diciamo influenzati da questa situazione si sono orientati primo a prendere informazioni su delle coperture che tutelano la qualità della vita quindi la vita stessa e poi soprattutto anche per i tempi che stiamo correndo anche verso coperture di perdita impiego ecco sì sì diciamo che un po' più di lungimiranza si è venuta a verificare allora adesso direi che questi sono un po' i numeri che abbiamo dato rispetto al periodo dell'emergenza coronavirus naturalmente tutti noi ci siamo dovuti riorganizzare lo abbiamo detto innumerevoli volte quindi lo facciamo e lo rifacciamo anche in questa sede ciascuno a modo suo mettendo in campo anche gli strumenti a disposizione ma soprattutto e qui mi riaggancio poi alla domanda che vorrei farle direttore insomma mettendo magari in moto alcuni processi che avremmo comunque messo in moto e in movimento ma che sarebbero rimasti lì latenti ancora per chissà quanto tempo e che solo un periodo emergenziale invece fa avviare parliamo della ripartenza cioè quali sono stati le basi della vostra ripartenza su cosa avete potuto contare per potervi non rimettere in carreggiata per poterci stare mi verrebbe da dire allora sì come abbiamo detto prima le situazioni di emergenza danno un'accelerata a dei processi di innovazione che probabilmente sarebbero arrivati comunque ma che sicuramente con l'emergenza trovano una esigenza di realizzazione molto più rapida diciamo che oggi essenzialmente ci siamo concentrati su due aspetti della nostra proposta verso il mercato uno è la digitalizzazione dei processi e l'altro l'introduzione dei prodotti di nuova tipologia sicuramente questo periodo ha marcato una crisi profonda anche dal punto di vista di disponibilità finanziaria c'è una maggiore ricorso al finanziamento delle proprie esigenze quindi prestiti personali e quant'altro e abbiamo trovato corretto in questo momento lanciare sul mercato un prodotto che si chiama Protego ed è un prodotto particolarmente studiato per il mercato della mediazione del credito e che coniuga al suo interno tutti gli aspetti necessari per poter garantire al cliente finale una copertura adeguata per tutta la durata del finanziamento ecco questo è ottimo peraltro insomma si rifà direttamente al discorso della protezione di cui parlavamo prima poi magari prima di chiudere questa intervista ribadiremo un po' le parole chiave a me personalmente piace chi ci segue lo sa ragionare proprio per parole perché almeno si entra direttamente nel merito cosa che peraltro stiamo facendo a prescindere beh l'immediato futuro invece come lo vedete e quindi quali sono le novità le strumenti oltre a quelle che già ci ha raccontato insomma entriamo un po' più nel merito su come affrontare il futuro che ormai è qui insomma l'immediato allora come accennavo prima sicuramente il passaggio al digitale e lo vedremo anche per il nostro convegno il passaggio al digitale è un passaggio obbligatorio il passaggio al digitale diventa un passaggio fondamentale anche nella routine quotidiana quindi nella capacità di elaborare degli strumenti che possono mettere in contatto il cliente con la compagnia e con il suo intermediario col suo consulente in maniera totalmente decorrelata quindi distanziata accennavamo prima al fatto che uno degli impatti negativi del covid è stato il fatto che ha interrotto questa catena di contatto questo momento di contatto tra il cliente e l'intermediario ecco che il passaggio al digital e quindi alla possibilità del cliente di poter fare tutta la sua ricerca e scelta del prodotto in maniera digitale e di poter essere entrare in contatto comunque col suo intermediario in in maniera digitale e online è diventato uno dei fondamenti del nostro della nostra scelta di futuro io scelgo a Fiesca è sicuramente uno dei momenti che contrassegneranno il nostro passaggio al digitale per l'anno prossimo e di questo più in dettaglio vi parlerà il nostro responsabile marketing Luca Loforese esatto esatto oggi abbiamo un po' di interventi e saranno tutti andranno un po' più nel merito giustamente adesso è un po' diciamo che questa è un po' una prefazione rispetto a quello che accadrà una cosa interessante per arrivare proprio a conclusioni con lei direttore è questo che giustamente è cambiato anche il modo di avere rapporti tra le persone quindi esigenze dei clienti seppur sembra quasi un paradosso ma non lo è però volevo chiederle conferma rispetto a questo seppur in una situazione generalizzata cioè tutti siamo sottoposti alle stesse tensioni alle stesse pressioni e alla stessa richiesta di cambiamento proprio per far fronte a questa emergenza che ci ha investito improvvisamente però credo che ancora di più siano emerse le differenziazioni e le peculiarità di ciascun singolo e qui mi ricollego al discorso delle esigenze dei clienti che devono essere ancora più mirate cioè o meglio le risposte che dovete dare ai clienti a seguito delle esigenze allora diciamo che Mafiesga è da sempre stata una compagnia di nicchia con dei prodotti di nicchia bisogna considerare che i nostri prodotti principali individuali erano già dei prodotti che prevedevano per esempio la causa di pandemia nelle clausole di risarcimento non di esclusione e di conseguenza l'attenzione al cliente l'entrata nel dettaglio dei suoi bisogni è sempre stata un must per la nostra compagnia nel costruire i prodotti i nostri prodotti continuano ad essere impostati in questo modo cioè il cliente ha la possibilità di costruirsi il suo pacchetto sicurativo step by step per arrivare a un'esigenza, a coprire l'esigenza attuale ma di più in alcuni prodotti esiste la possibilità per il cliente di poter variare il mix di coperture e quindi di seguire le sue esigenze nel corso della sua vita come assicurato quindi direttore insomma visto che come abbiamo annunciato ci sono altri interventi insomma abbiamo appena iniziato questa prima edizione full digital del convegno a Fiesca Informazione e direi che si può partire proprio dalle parole che mi sono appuntata via via mentre lei ci introduceva nel discorso intanto chiaramente ci sono diverse esigenze una maggiore richiesta di protezione dal rischio perché c'è la percezione maggiore proprio del rischio e quindi che coinvolge anche una fascia d'età che notoriamente è meno concentrata sul prospetto del futuro giustamente perché vive più il presente e poi le parole chiave di questo grande periodo digitalizzazione e innovazione cioè da lì si deve partire visto che abbiamo parlato di futuro certamente va bene allora intanto grazie al direttore generale a Fiesca Italia per Francesco Basilico che ritroveremo naturalmente poi non sveliamo troppo di questa giornata insieme noi andiamo in pubblicità e poi torniamo ancora qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti